A che pensi? Ok, partiamo dal fatto che siamo tutti gamer. Ma va! Quindi, nei videogiochi, le abilità te le crea da solo. Qua no, guarda. Un giocatore si è messo in mezzo alla gola. Sai cosa vuol dire? Che non ha mai visto un horror. Che ha paura. E quindi è un bersaglio facile. Ce lo prendiamo con i più deboli ora. Punti gratis, perché non farli? Va bene, ti copro le spalle. Al mio tre, pronto? Uno, tre. E' do' it!